Sinceramente credo che sono fortunato di avere questa pagina Facebook al quale mi arrivano tutti questi auguri e mi fa molto felice. Come regalo di compleanno cosa ti aspetti? Un gol magari sabato con la nocerina o basta che la staff continui a vincere? Come regalo di compleanno chiedo poco, continuare a vincere e andare avanti.